Ciao, io sono Lea e lui è Pablo. Vi diamo il benvenuto sul nostro canale e vi chiediamo di metterci un like e di iscrivervi. Ciao amici, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Oggi è una giornata davvero meravigliosa, c'è un cielo limpido, limpido, limpido. Voglio fare qualcosina in casa, mi preparo, poi faccio delle pulizie di routine e poi rimanete con me per vedere. Ovviamente Pablo sta ancora sonnecchiando, vero amore? Ieri ti sei stancato tanto, ha corso, ha giocato, vero? Dillo agli zii che hai fatto ieri pomeriggio. Mi dispiace spostarmi da questa posizione comodissima per lui, ma veramente questa mattina siamo stati tanto, tanto, tanto a fare le coccole e adesso io dovrei cominciare a fare qualcosina, insomma, anche in casa e vorrei anche prepararmi, quindi purtroppo lo devo disturbare. Ci poggiamo sulla copertina. Ciao! 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. un grosso.